Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica. Chissà nel complesso una giornata che vedrà un netto miglioramento del tempo. Si allontana infatti verso l'Europa orientale la perturbazione che ha portato temporali anche forti da noi. Un minimo di instabilità ancora interessa al versante adriatico. Contriamo alla nuvolosità attesa sull'Italia e come vedete le zone di Sereno sono davvero ampie. Poi nel pomeriggio qualche nuova nuvola si formerà all'estremo nord-est lungo la dorsala peninica coinvolta in parte anche l'adriatico ma con fenomeni isolati. In effetti se controlliamo le precipitazioni sull'Italia vedremo ben poche macchie azzurre sul nostro paese. Qualche residuo piovasco sul basso Tireno e nel pomeriggio nuovi temporali specie all'estremo nord-est ma isolati. Quindi in definitiva domenica soleggiata in gran parte del paese. Qualche nuvola diciamo sul basso Tireno, magari qualche gocciolina in campagna potrebbe ancora cadere. E poi nel pomeriggio nuovi temporali all'estremo nord-est ma non particolarmente diffusi e cattivi e poi un minimo di variabilità sull'adriatico. Temperature nella norma, anzi al primo mattino aria molto frizzantina. Attenzione anche al vento, soffierà piuttosto sostenuto, special sud. Per i dettagli sulle vostre zone consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.